Amici bentornati all'appuntamento con il mercatino dell'usato, siamo a Moncalieri in questo servono numero 41 con Francesco e con Aldo, come stai Aldo? Sì bene, continuiamo con il festival di primavera qui al mercatino dell'usato a Moncalieri, veniteci a trovare numerosi. Allora anche oggi vedremo tantissime vetture, vede Francesco? Sì abbiamo diverse vetture da potervi proporre, dalle macchine più recenti, fresche, sporticar e tantissimi monovolumi. Andiamo a vedere insieme. E cominciamo in casa Volkswagen Aldo? Sì, sempre le ambitissime versioni della Volkswagen Golf a partire da soli 5.900 euro, versioni benzina, diesel e bifuel. Per chi invece preferisce Alfa Romeo e Lancia? Sì Cesare, numerose Lancia Delta, Multijet e numerose Alfa Romeo Giulietta, sempre con la versione diesel. E passiamo alle sportive? Sì, sempre numerose le sportive presso la nostra sede, un SLK, un Carrera S, un X-Drive 730 e una meravigliosa BMW 320 Cabrio per favorire la vostra estate. Ideale per le vacanze è questa Fiat Fremont? Sì, appunto numerose vetture per ogni esigenza, appunto questa Fremont del 2011, venite a scoprire nel prezzo, una Grand Chenique 7 posti, un Nissan Qashqai 5 più 2 versione turbodiesel, una meravigliosa BMW 530 GT Gran Turismo, una C220 Station Vega del 2009 e venite a scoprire questa bellissima versione dell'Audi Sportback del 2006. Per chi vuole tanto spazio a bordo? Sì, appunto numerose Multispace come questa versione Citroen Berlingo 1600 HD, un Fiat Cubo Multijet, un Cubo sempre Multijet con cambio automatico, un Fiorino, un Kangoo versione TomTom Bifuel e un Doblo 1600 Multijet del 2010, venite a scoprirne il prezzo. E per chi cerca una Panda Aldo? Sì, numerose utilitarie di questa versione, parliamo di versioni Multijet, di versioni benzina e di versioni diesel, venite a scoprirne il prezzo. E tante Lancia Ypsilon? Sì, appunto abbiamo numerose Lancia Ypsilon che piacciono sempre a tutti i generi di clienti, parliamo di versioni sempre Multijet, benzina e ascoltate bene, due versioni EcoSheet GPL di fabbrica con esenzione del bollo permanente. Parliamo ancora di una bellissima Mini One Check, venite a scoprirne il prezzo. E per finire vi mostriamo l'area dedicata agli operatori del settore, salonisti e commercianti, un'area ben definita con oltre 250 veicoli a disposizione. Anche per oggi amici è tutto, però ricordiamo ancora l'indirizzo Aldo. Sì, Corso Savona 41 a Moncalieri, dentro i locali della Ford Autos. Volevo solo ricordare i nostri servizi, ogni giorno nuove occasioni, finanziamenti in sedia, acquisto del vostro usauto, revisione ed officina. Veniteci a trovare. Un ciao anche da Francesco. Grazie, vi aspettiamo numerosi. Come sempre lì alla regia.